anna benna a per lungo come dlc in guerra non puoi sempre scegliere chi vive e chi muore ciò che vuoi fare è stare vicino ai tuoi fratelli italiani a tutti i costi se sei fortunato tutti ne escono vivi aveva una bella squadra una delle migliori eravamo fratelli questo qua è la voce di thermite di rainbow six si si italiano fa sempre tipo l'annunciatore oppure il il comandante che dice queste cose la voce fatta apposta sembra si prega che non spari per sbaglio agli occhel benne si mora un intervento dell'altissimo per quello usci la pompa e piaccia si comincia iniziano quanto puoi smu s il mio lavoro era stare in sella e sparare per questo mi chiamavano trim start g mik non mi chiamavano io ho il budget è buffer è ubb fai ci sta ci sta è bene è l'è ho il budget è mikalando è animato pure abbastanza di questo va bene va bene fermo cos'è successo come fate via puma? stavo a terra benne benne allora go to the hill and go down ahahahah i am in the batting blitz in guerra devi stare vicino ai tuoi fratelli nel bene e nel male e se sei fortunato tutti ne escono vivi best place ubisoft shanghai shanghai ma perchè hanno pure una sede shanghai vabbè dai mti ai muswan where you go to? what is your mission? james kennett sergente americano numero di serie romeo 4 6 ho scordato che in Vietnam è tutto così estremamente giallo e arancione james sergente americano italiano numero italiano siano lì benne che cosa stanno dicendo? ma c'è una grossa pantera nei dintorni eh? è la o no è un genghialito quello è un cinghiale non mi dispiace bastati imperiali ma che cazzo stai a di? non mi dispiace 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 il tuo elicottero è vicino e quando vi hanno trovati bruciava tutto non mi dispiace non mi dispiace non mi dispiace oh dio da palma i nostri lassù o viate un po' fuoco viate un po' fuoco un peste con il fucile non è come vi hanno fuoco beh spero che si mette le mani così e va VIVO si mette le mani così ok ciao Chi cazzo ore di pioggia eh 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 ben ritrovati in questo nuovo video oggi siamo 10 tornati in Vietnam sono indietro nel tempo tornati in Vietnam perchè noi ci siamo siamo già stati in Vietnam siamo tornati siamo aspetti per avere i nostri due risultati di abbandono è morta il bad man il bad man il bad man e ancora si viene oggi tutti siamo ma è infiamerato ecco no? si si oh merda no questi non mollano perchè hai mettere iniziano un helicottero? con quale qualunque? eh ce l'hanno i russi ti ho detto che questo è come farcredire vola bravo non capisco perchè la Ubisoft c'ha questa mania che ogni volta ogni farcredire v'inizia il day war penne non capisco si diverte beh è bellissimo ha fatto parkour è tagliato la strada eh eh non so dove dove andiamo perché? vabbè vai fin vabbè vai fin non è stato benissimo non è andato adesso bene altre caccia un elicottero in meno bene 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 chiamanga rambo o ahia assaggia andiamo andiamo chiamanga rambo oppure egg steo mastigazzi ok anzi no, il titolo del video mastigazzi oh che è un porcetto! ah no è naga e... oh oh di fronte a noi Come hai fatto a vedermi? Sono stato io proprio Ah io mi rubo la pistolettina Welcome to MAM! Mi ha dato la cimera C'è qualcuno? Eh, è la prima volta con il gioco Abbiamo la pistoletta I nostri caccia hanno visto il luogo del vostro schianto a 5 km a ovest rispetto a noi Noi abbiamo il nostro da fare Dovrai venire da noi per l'estrazione Quei jet hanno appena colpito le posizioni nemiche a circa mezzo chilometro al nord-est Quindi occhi aperti Eh, cazzo! Ricevuto! Vengo da voi! Passo e chiudo! Chiudo e passo Vabbè, mi riporto a questo Campo orientale Andiamo Ma... Ciao Ganchio Ma che cosa ti vuoi? Frago P44 Magari sopra è vaffanculo Che? 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 Penne Era... Questo è il campo con una pistolina, signor Guardiamo dei jet in arrivo Se vuoi sono tutti tuoi Cosa? Cosa? Come è che sarebbe? Cosa è tutto mio? I jet Ma... Si possono da ordini? No, non credo Si, si possono da ordini Con il binogolo Saliamo Ok, perfetto Però hai colta attacchi Perché ci sono nanti aeree Ok, 3 Un po' di uso io Poi È rimasto uno Ma... Ucciso Ok, F Ben! L'ho rilevato Mica tanto A posto Aspetta il fuoco Che spettacolo Python 2.5 Ho neutralizzato un campo nemico In realtà lei ha conquistato A me che la neutralizza Di servono Un zeme Sentito Ma chi è? Oddio pensavo fosse... A caso Pensavo fosse vivo Ho detto Oh si è svegliato Ma manco il tempo ti ragione Chi è? È morto Abbiamo intercettato una trasmissione radio 3 della tua squadra sono ancora vivi Li hanno catturati Sembra che siano prigionieri in posti diversi Oddio È vero Allora Ah qua è benissimo Qua se vai da su Mi fai le belle fotoine Vabbè Ma dobbiamo arrivare qualche jet Ok Vedere Oh lei è bellissimo A parte il suo morto F Però è bello Python 2.5 La contraerea ci sta facendo a pezzi Sentiamo Parkour No Si è a pesce Vivo L'acqua che ha altre 5 cm Hai sbagliato Sbagliato Ah fuck Vabbè vado io Ben Oddio Vaffan 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 Oh ciao Wow Uuu MP40 Festa maeva Che male è Arrivo Eh scusa mi sono un po' distratto Pionni bro Oh mio dio Oh mio dio Oh Is Ok Dove Dove Lo vedo Ah è Morto Morto Sono qua Arriva Bene Spostati 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 Ma Base è Python 2.5 Questa contraerea è fuori uso ora Eh si Ben Ok dobbiamo muoverci verso quel campo ultimo Dove Hai anche il supporto ai bombardamenti Chiama sei dei bersagli per i jet Ciao Ho fatto pure male Oh Ci sono tre cinghiali Ocho Cattivissimo Ocho Ocho Eh la madonna Sono fortissimi F Ok Dovemmo farne a ste Seeee Allora vediamo Sì Ok Sì Sì Ma Ok Ma Che stanno a fare Se le ricette Beh No Eh 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 Base è ecco Qui parla Python 2.5 Ho neutralizzato un campo nemico Ok Perfetto Ah un attacco Da tiratore scelto questo cazzo Oh oh Quanti sono? Quanti sono? Fatti fatti Gabbè ma sono ovunque Fichissi Ma ci stanno così le brooning a caso Della mappa Con il mio logo Con il mio logo La foto di Ho Chi Minh Tra l'altro è Ho Chi Minh Manco quella vera È quella proprio Ho Chi Minh È rifatto con la grafica di Far Cry Shin Ehm Ipotenza dentro eh Fa un po' di bordello Ma Joker sta dentro Non lo spotano A me sì Scusa Vabbè Scusa Che c'è? È successo qualcosa? Python 2.5 Ho eliminato un comandante nord vietnamita Scusa Oh Ah merda No 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 Aspetta forse muore Ok Oh Oh Grazie.